erano gli americani a trieste e mi facevo proprio sentito tram de obscena e anche tram de obscena senato disgraziare no no tu non così non la canzone può anche andare bene ma povera di arrangimento dammi give me my guitar allora io dà la chitarra e me mostra lui come che se potessi fare tram di obscena con un arrangimento un pochettino particolare e anche tram di obscena is in alto disgraziare venendo su per scoccola una casa garriba tutto 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 boh no di dio era giorno del lavoro e dentro no che era che un povero che un povero come fare tua canzone frenador eh frenador ah frenador frenador e non si ricordava altre parole frenador ma io ho capito che gli americani sono fortissimi nell'improvvisazione quando che ne siano le parole hanno frenador son professe heaven progreso Ho capito, ho capito, moni, canotti, no, good morning, ah, comunque io con tuo canotto fare disco musica, ah, allora, c'è poi di nuovo la chitarra. Può succedere di tutto, eh? Questo dura circa una mezz'oretta. Dopo se ferma, go, moni. Un'altra mezz'oretta, perché è disco musica, eh? E mi chiedeva, insomma, aveva ancora birra nel frattempo. Allora, guarda lì, vedi che nessuno lo ascolta, guarda l'altra parte, nessuno lo ascolta, allora un pochettino. Gommoni, 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 gommoni. E guarda in mezzo alla gente una muletta che fa gomm, ah, gommoni. Gommoni che a trovare chi che rispondi Gommoni 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 E avanti ancora una mezz'oretta così Insomma il disco costa Costava allora Le cose costavano anche 50 euro Una roba compagna E il disco appunto si chiama Gommoni 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 E sulla copertina del matto Si strassi un canotto Che canta che suona